Qua una piccola anteprima di questo camperozzo Buongiorno buongiorno ragazzi bentornati in un altro video oggi un pochino diverso dal solito Anche perché non sono in viaggio e soprattutto non sono in viaggio con il camper Ma come avete potuto vedere sono uscito stra presto alle 6 meno un quarto Per recarmi in quel di Mantova dai ragazzi di Camper Tools È una giornata un pochino diversa perché non sono io il diretto interessato Almeno dei lavori che andranno a fare oggi ma sarà un cliente che appunto porterà lì il camper Oggi sono qua in veste di videomaker chiamiamolo così di operatore cinematografico Abbiamo bisogno di girare appunto un video sull'installazione di un prodotto sul camper Che però vi aggiornerò dopo sul da farsi ecco Che poi dopo vedrete nei prossimi giorni sul canale di Camper Tools Adesso sono arrivato qua al baretto per chi di voi si fosse perso gli scorsi video Il classico baretto dove mi fermo a fare colazione Anche perché sto aspettando Giovanni che mi ha scritto ieri che dovrebbe arrivare più o meno qua intorno alle 8 Ma ha chiesto se mi univo a lui per la colazione Perché no, cappuccio e brioche ci sta sempre Quindi adesso sono più o meno le 8 o meno 20 Aspetterò un 20 minuti che arriva e poi dopo faremo colazione Eccoci qua dopo colazione fatta Siamo qua con Andrea Perché oggi c'è un pochino da lavorare, da fare Andremo a montare un Pandora Camper Pro sul camper che vi farò vedere a breve Qua c'è tutto il materiale iniziale, centraline, cavi, fili, tutte cose Adesso sto un attimino programmando, sistemando per poi dopo spostarci sul camper Da notare qua tutto lo schemino, scheda tecnica, giallo, marrone, viola, pink, black, tutte cose Qua abbiamo lo stabilizzatore pronto con la Fuji Ecco qua a registrare che cosa succede quest'oggi Tra l'altro questo l'ho comprato nuovo ed è il Mini RS3 Se non mi sbaglio, sì Io avevo l'RSC2, era un po' più grosso, un po' differente Vabbè, adesso quindi sto testando quest'oggi Questo piccolo giocattolino e vediamo un po' come si comporta Tra l'altro quello che mi stava dicendo prima Andrea Mi stava spiegando del Pandora Pensate, una piccola chicca che è tutto modulare ed è tutto programmabile Nel senso che se vi servono delle uscite per qualcosa che magari non è il gas, la porta Ok, allora si possono spostare tutte qua tramite computer Quindi lo si va a fare prima nel software che poi dopo viene praticamente assimilato dalla centralina E quindi tanta roba Eccolo qua dietro di me il camperozzo col motore aperto Ed è un semi integrale ragazzi Nuovo nuovo di pacca, praticamente mi dicevano che avevano su più o meno 38 km Poi dopo daremo una sbirciatina anche dentro Finestra del letto, gavoni, tendalino della tulle Ma poi dopo lo scopriremo dentro col calma Appena c'ho 5 minuti di tempo ve lo faccio vedere dentro Facciamo una sorta di mini camper tour ecco Eccoci qui all'interno È partito dalla cabina ovviamente Perché la zona dove andare a mettere la centralina è appunto nella cabina Io sto più o meno facendolo da piccinino Trovando le cose in giro, passandogli gli attrezzi E lui che fa lo sporco lavoro Però tutto sommato i lavori procedono Qua una piccola anteprima di questo camperozzo Però per il camper tour aspettate ancora un pochino un pochino un pochino Perché siamo un po' incasinati Tutto aperto qua ovviamente Zona cruscotto, zona anche qua sopra Del tachimetro, tutto il resto Ovviamente quando si vedono i camper o comunque i mezzi in queste condizioni qua È sempre un po' brutto Però d'altronde da qualche parte si deve pur passare Tra l'altro qua il cliente ha optato Ovviamente presumo, penso sia un optional Per una bella Pioneer Non conosco il modello però lo schermo è bello bello grande Così riesce a vedere tutto navigatore, radio e tutto l'ambaradam Bella però ci sta La cabina è pressoché più o meno come il nostro camper Anche perché comunque Fiat Ducato, Fiat Ducato Quindi non cambia L'unica cosa è che questa qua è la versione 2022 Con i comandi al volante e leggermente il volante diverso Però bene o male la linea della cabina è quella Hanno cambiato, mi sembra di vedere qua la zona delle bocchette Però diciamo piccolezze ecco Ad esempio qua trovate il lucido Soprattutto nella zona qua con l'antipattinamento e tutto il resto Le bocchette che vi dicevo sono queste Io ce le ho cromate, sono un attimino un po' più squadrate Queste invece sono bombate Però tutto sommato il resto è rimasto uguale Anche perché qua possiamo vedere sempre gli oscuranti Anche queste qua plissettate della Remis Il volante è più bello perché comunque vabbè Al di là dei comandi al volante però è un po' più moderno Ha il cruise control, questo ce l'ho anch'io però Ho la levetta nella parte di sinistra Non sono male i sedili fatti così Che è una sorta di ecopelle mix tessuto Un pochino sporchevoli però anche i nostri sono grigio ghiaccio Quindi più o meno siamo sulla stessa barca Adesso è il momento di far passare i cavi Nascondendoli e tirandoli fuori dall'altra parte Qua sempre tutto bello aperto A cuore aperto Tra l'altro prima è riuscito a far passare il cavo Per quanto riguarda la sirena Da dentro fino a qua fuori al motore Il cavo in questione è questo qua E i lavori procedono ragazzi Però in tutto questo si sono fatte le 11.26 Io ci avrei anche un pochino di fame Però attendiamo Ho appena trovato 5 minuti di tempo Quindi saliamo sul Winsberg Spero che si dica così la prima volta che lo nomino Però teoricamente dovrebbe essere così Qua troviamo una bella dinetto Ovviamente hanno tolto i cuscini Per essere più comodi per i lavori Con tavolino che c'è anche la sua prolunga Due sedili davanti che abbiamo visto prima Ovviamente girevoli Skyview Non c'è la cappelliera Ci sono dei piccoli buchettini qua Dei piccoli spazi incavi Con casse dello stereo Si può mettere qualcosa Qua abbiamo il primo pensile Dove appunto stipare la roba da mangiare Comunque quelle cose che si vogliono mettere Non apro perché ovviamente il camper non è il mio Qua sopra troviamo una centralina Molto minimalista solo questa Bella compatta tutto bello pulito Qua si può notare che è il classico soffitto appunto del camper Invece qua gli hanno fatto un'imbottitura dove c'è l'illuminazione della dinetta Qua tanta roba Subito sopra invece troviamo l'oblò panoramico C'è già la predisposizione di una staffa per una televisione Poi non so vabbè se loro la utilizzeranno o meno Però già c'è quindi ok Qua troviamo un altro pensile sopra la cucina Per anche qua stipare le varie cose Dometic tre fuochi Beh dai bello spazioso devo dire Ci sta con anche il suo piezzo elettrico Quindi tanta roba Lavello con cacchio bello il lavabo Il lavabo ci sta bello Alto che almeno scende bene l'acqua Il lavandino non è tanto grande Sinceramente potevano un attimino allargarsi un po' di qua Però vabbè Oscuranti e zanzariere anche queste su tutte le finestre Compresa anche la porta Soffermiamoci ragazzi un attimo sul frigor È un Thetford trivalente Anche perché fuori ho visto le griglie E spazioso Ci sta anche qua abbastanza capiente diciamo Perché ci sta alla grande Ma che bella celletta Spostiamoci verso la zona letto E guardate c'è tutta l'illuminazione a led sopra Sempre anche qua tutte belle mensole Per stipare i vari vestiti Le varie cose Altri tre pensoli là davanti Il letto questo qua con i gemelli Che poi in mezzo sicuramente si potrà mettere un'altra aggiunta E viene praticamente un matrimoniale Però già come potete vedere da qua C'è davvero uno spazio della miseria Abbiamo una finestrella lì E un oblò sopra Da quest'altra parte qua invece nulla Però le rifiniture sono fatte davvero davvero bene Le tendine qua E posso notare che c'è anche una tenda Che va a separare la zona notte dal resto dell'abitacolo Della cellula Quindi tanta roba Qua sotto ovviamente c'è il gavone E da queste invece due parti qua Si può appunto accedere Sempre a vanno sotto Per appunto dove si mettono le varie cose E mi sembra di notare qua Se non dicono stupidata Sì C'è una botola Che si accede sia al gavone Ma è anche praticamente un gradino Dove potete stipare anche qua Dell'altra roba E qua sotto c'è la scala Che potete estrarre Quindi tanta roba anche questa Ah eccolo qua Scusate Il letto per il matrimoniale Lo si apre da qua Praticamente si tirano Le doghe Vengono avanti le doghe E qua potete aggiungere Il discorso del materasso Bello Questo mi piace Fatto davvero bene La zona letto Alla grande davvero Per poi passare Al discorso del bagno Porta tanta roba Sembra quella di casa Non trovando il pulsante Per l'illuminazione del bagno Utilizzo il cellulare Comunque giusto per farvelo vedere Abbiamo la doccia separata Con questo meccanismo del lavandino Che mi sembra di capire Che si può traslare Da questa parte Adesso non sto a schiacciare A fare Praticamente lo si sposta Quando si deve utilizzare la doccia Dalla parte sinistra Verso destra Quindi praticamente sopra il WC Che è qua Con la classica cassetta Dometic Quindi praticamente Si va ad utilizzare la doccia Si chiude Quindi questo qua Ottimo come cosa E tra l'altro qua Abbiamo appunto una specchiera Che al bisogno si apre E ci si può mettere Tutte le cose Inerenti al discorso del bagno Quindi ottimo ci sta Non c'è la finestra Però avete Sopra lo bloc C'è anche il miscelatore Staccato per la doccia Con la sua cornetta Con il caldo e il freddo Quindi da Il bagno Non è grandissimo Però Ci sta Per due Va più che bene A piccolo particolare Della cucina Che me lo sono dimenticato prima C'è sempre la prolunghina Rialzo qua Per appunto come piano di lavoro Anche perché sennò qua sareste veramente risicati Non sto ad aprirvi tutti i cassetti Perché appunto ci saranno dentro le loro cose Però avete tre bei cassettoni Qua sotto il piano della cucina Quindi come spazio ce n'è Una cosa che sto notando tanto Ovviamente Non è che mi viene da paragonarlo al nostro Però ci sta E' lo spazio che avete comunque qua in dinetta Calcolate che questo qua Mi dicevano i ragazzi Che è un 6,70 m Il nostro è comunque un 6 m Quindi quei 70 cm in più Li hanno recuperati tanto Nella zona del letto dietro Avendo comunque i letti fatti così gemelli Perché se ce li avevano dall'altra parte Comunque sarebbe stato più corto Però i letti non sarebbero stati così Sotto qua la dinetta C'è la classica panca Con appunto la truma Sbirciamo sbirciamo Troviamo una truma a gas Con B6 tra l'altro Buona 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 E a gas non è a gasolio Però è una 6 Quindi comunque spinge alla grande Poi dopo qua trovate tutti I vari cablaggi Le varie cose della centralina E del discorso del 220 Tutto qua sotto la dinetta Continuando il discorso truma Una cosa che mi viene da notare subito Abbiamo delle bocchette di reazione Cosa ottima Che hanno pensato di farne una qua E una anche la Direzionabili tra l'altro Perché appunto dalla cabina Come in tanti di voi sanno Arrivano tanti spifferi Quindi direzionando queste due bocchette Qua Le si possono spingere l'aria calda Verso la cabina Quindi non è male E soprattutto questa Visto che abbiamo il discorso del gradino Alla porta d'entrata Quindi altri spifferi anche qua Non è male posizionarla In questa posizione qua Diciamo che adesso ormai Avendo il camper da un po' Tutte queste piccolezze Tutte queste cose qua Ci si fa caso Anche perché comunque Lo si prova sulla propria pelle Quindi quando si vedono gli altri camper Si parte subito Con il discorso di controllare Fare Vedere dove gli altri L'hanno messo Le bocchette Mica bocchette Diciamo si crea questa sorta di malizia Che ci sta È normale Si guardano subito E si fa il paragone Col proprio camper Comunque come seme integrale E' bello Buono Ci sta Poi il discorso di queste colorazioni qua Dei mobili A me piace molto Perché il laccato bianco Così non mi è mai piaciuto Invece così con il legno Super approvato La giornata continua E adesso pausa pranzo Con un bel panino E poi dopo si riprende Tra l'altro controllando Controllando Voi lo sapete che io sono curioso Sono andato sotto questo camperino qua Per vedere il discorso Della commentazione Dei serbatoi E pensate Pensate Guardate un po' Cosa c'è qua sotto Spero che dal video Si riesca a vedere Tutto coimentato E passano anche i tubi Della truma Direttamente Dentro la coimentazione Dei serbatoi C'è una bomba Guardate Ma che roba Tutto tutto chiuso Sigillato Con il calore Della truma Che arriva dentro Quindi Top alla grande E soprattutto Anche altra piccola chicca Guardate il tampone Non è giù in battuta Anche perché Sembrerebbe che la balestra Sia rinforzata Anche perché vedete che qua Parte più stretta E qua dopo s'allarga Quindi è rinforzata E' vero che il camper Comunque è scarico Anche perché Non è che devono andare in vacanza Però comunque Da vuoto Non sei a tampone Cosa che nel van Almeno nel mio Prima che facessi tutti i lavori Anche comunque da vuoto Il tampone Eri comunque basso Invece questo qua no Adesso ragazzi Andiamo a rompere le scatole A uno dei membri Del team di camper tools Che anche camper tools E navistor Per chi di voi appunto Non lo sapesse Entriamo in uno Dei suoi regni Almeno così M'ho anticipato prima Quindi vuol dire Che ce n'ha questo Ma neanche tanti altri E si tratta Del magazzino Del cuore Pulsante Eccolo qua Giovanni Andresa All'opera Durante i suoi lavori E' giusto per il video E' giusto Poi torno a dormire Lì di fianco Magari Tra l'altro Si scherza Perché qui Non sono incasinati Ma di più ancora Quindi Si scherza Si scherza E' uno dei suoi regni Perché hai questo Se no c'è anche l'ufficio Giusto no Ufficio di là Ufficio di qua E' un po' dappertutto Qua dentro Multitasking E qua dentro Che cosa che si fa Ordini giusto Ordini e commerce Gestione delle garanzie Tutto Ok ok Perché appunto Per chi di voi non lo sapesse Ci hanno anche appunto L'e commerce Quindi sul loro sito E da qua parte il tutto Esatto Tutta Italia Molto bene Quindi ce n'è di lavoro Ce n'è di lavoro Esatto Va bene Adesso andiamo via Facciamo finta di lasciarlo qua riposare E niente Ciao Giovanni Grazie mille Grazie grazie Breve panoramica Veloce voce perché si arrabbia Perché mi ha detto che è in disordine Quindi andiamo via Giornata praticamente Quasi finita Anche perché Siamo arrivati alle 5 di sera Andrea è riuscito a fare tutto Installare Pandora Installare l'antifurto Tra l'altro Qua dietro Non so se vedete Gli ha installato anche il sensore del gas Collegato all'antifurto Pandora Che nel momento che dovesse rivelare Qualche fuga di gas O gas o porifero Comunque qualsiasi cosa Suona anche l'antifurto del camper Quindi tutto sommato Dovremmo esserci Adesso finiamo Qualche cosina del video Il finale Tutto il resto E poi dopo io Torno a casa Anche perché stasera C'ho un giro pizza da fare Quindi Speriamo di non trovare casino A ritorno Che dire Vi sono divertito questa giornata A filmare A parlare A ridere A scherzare L'antifurto è una bomba Ragazzi Non perdetevelo Perché vabbè Non lo vedrete su questo canale Sul nostro canale Ma lo vedrete Sul canale Campertools Poi dopo quando uscirà Magari vi metto il link qua sotto Così lo potete andare A vedere Per chi di voi è interessato Io non vi nego Che ci sto facendo Un pensierino Non lo dico Perché sono qua da loro Ma è da un po' Che lo lumo Come antifurto Anche perché Mi piace Non che il nostro Non sia buono Però Quando magari si trova Qualcosa di meglio Perché non tenerlo in considerazione Ecco Io sono di questa idea Tanto ormai Per chi di voi Ci segue già da un po' Sa come la penso Se volete qualche informazione A riguardo Scrivete qua sotto O comunque sul canale Appunto di Campertools Che sicuramente Vi risponderanno Senza nessun tipo di problema Noi ragazzi Penso proprio Che ci vediamo Al prossimo video Chiudo questo video qua Seduto su questo camper Che vi devo dire Mi è piaciuto davvero molto È fatto davvero bene E Bello 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 Non ne avevo ancora visto Di questa marca qua Secondo me È fatto bene Con materiali ottimi Anche perché Ho avuto modo oggi Di essere qua Quindi me lo sono Un attimino sbirciato Bello Merita davvero E niente ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Occhio occhio Perché si sta avvicinando Febbraio e marzo E ve l'ho detto Che sta arrivando Sta arrivando il video Con le novità Quindi rimanete Sintonizzati sul nostro canale Alla prossima Grazie mille Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Se vi è piaciuto il video Mettete tanti like E alla prossima ragazzi Ciao 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 Ciao